Cari amiche e cari amici, un articolo di Francesco Lamedola intitolato Una società in ostaggio degli squilibrati psichici. La società contemporanea si distingue soprattutto in una cosa da tutte le società del passato, il fatto che in essa non è la minoranza responsabile, sana, animata da un atteggiamento positivo verso la vita a svolgere la funzione trainante, bensì una costellazione composta di spostati nevrotici, degenerati, ossessi e disperati che condiziona la vita dell'intero corpo sociale, il quale, pur non essendo capace di governare, ha fatto in modo da pesare in maniera decisiva sulle scelte di tutti, condizionando la politica, l'economia, la cultura e svolgendo di fatto una buona funzione nichilista e distruttiva che si compiace del nulla e gode di bloccare i processi virtuosi e le possibilità espansive. Stiamo parlando di una minoranza, peraltro sempre più consistente, di persone disancorate, senza saldi valori e punti di riferimento, di persone che detestano l'ordine, la pace e il bene rivestono la loro malattia psichica di nobili panni, senza ammettere il proprio fallimento, la loro pochezza, e riversano su tutti gli altri le cause dei loro insuccessi, sventolando patenti di nobiltà morale, autentico amore del progresso civile, che si manifesterebbe anzitutto, secondo loro, nel denunciare le colpe nascoste di quelli che hanno la sola vera colpa di saper vivere normalmente, di aver crescito una famiglia, aver creato una piccola impresa, mentre essi nulla sanno produrre se non amari, lamenti, rampugni interminabili, spesso tirando in ballo i diritti conculcati dei migranti, dei diversi e di tutti quelli che, a loro dire, soffrono sotto il gioco di un ignobile sfruttamento, non da parte dei padroni universali, ma proprio di quei piccoli imprenditori, di quei padri di famiglia che a loro danno tanto fastidio perché ricordano loro il nulla che sono. Questi sono gli intellettuali, un esercizio di artisti senza talento, scrittori senza originalità, pensatori senza spessore, scienziati incompetenti, tutti però accomunati da una smisurata ambizione, un sordo rancore, un desiderio di rivalza e di vendetta. C'è poi un numero ancora più grande di persone comuni, alcune delle quali sofferenti di autentiche patologie psichiatriche, depressione, bipolarità, ma neanche di vario genere o di soggetti che, pur non essendo malati nel senso clinico della parola, sono tuttavia degli anormali, per scelta, per loro comodità, disadattati che vogliono farsi mantenere, tossicodipendenti che sfruttano i genitori, femministe incattivite, falliti che vogliono rivalersi su chiunque abbia del talento, egoisti, narcisisti cronici, per vocazione incapaci, che si atteggiano a incompresi, a perseguitati, e tutto un vasto esercito di monstri sociali, di schizzati, di paranoici, ossessi nel vero significato della parola, che neanche mancano, come è giusto, preti senza vocazione, religiosi sessualmente deviati, prelati, massoni, satanisti, che rimestano nel torbido, propagano ogni sorta di sporcizia, eresia, e aumentano la confusione generale, l'aumentano, l'aumentano, con il loro stile malefico, sì, malefico, la loro pastorale capovolta, e il loro controvangelo infernale, sempre alla mano. Scriveva negli anni settanta Maurice Verdun, un psicologo politicamente scorretto, Abbiamo descritto i principali tipi di persone tarate che circolano in gran numero nella nostra società contemporanea, e che popolano le case di detenzione, rieducazione, gli ospedali psichiatrici. Ora intendiamo precisare il peso, il disordine e il pericolo che esse causano alle persone rimaste, quelle rimaste sane, nei vari settori della vita sociale. Quante famiglie hanno a loro carico un debole mentale, un demente internato? Quante soprattutto sono turbate dalla convivenza con uno squilibrato del dinamismo, della sensibilità psichica, dell'affettività passionale, del giudizio pratico, dell'emotività? Nessuna statistica assiste a questo riguardo, ma il caso è così frequente che senza dubbio sarebbe più facile numerare le famiglie che sono immuni da disturbi della vita mentale. E' certo che oggi le famiglie fortunate, che non hanno nel loro seno uno dei grandi invalidi o dei semplici minorati dello psichismo, sono praticamente senza difesa contro il contagio di questo flaggello della vita familiare costituito dai disordini dalla vita mentale, mentre nelle famiglie che ne sono affette le persone sane devono sopportare il peso di quelle malate con il turbamento continuo che esse provocano alla loro esistenza. Quanto ai bambini, devono soffrire proprio durante gli anni decisivi della loro formazione fisica e morale, gli squilibri dell'uno o dell'altro dei loro genitori, ancor peggio di tutti e due subendo gli sciocchi emotivi ripetuti, i traumi affettivi permanenti, determinati dalla presenza di un padre tirannico, impulsivo, violento, o ancor peggio di una madre ansiosa, nevrotica, spendereccia, sempre assente, in movimento e incoerente nelle parole e negli affetti, ma anche nei suoi ordini e nelle relazioni. Come stupirsi dello smarrimento dei bambini sotto dalla direzione di questi individui. Come meravigliarsi della loro volontà di evasione presso i nonni, gli amici, ove il focolare è più accogliente. I direttori di coscienza e i confessori di quei giovani penitenti che si accusano di aver addolorato la mamma di nutrire rancori nei confronti del papà non potranno fare altro che raccomandare rispetto all'amore verso i genitori, pur sapendo che le esortazioni a dominare i propri sbalzi di umore e assolvere meglio i doveri familiari rivolte a loro, volta a questi poveri educatori, saranno totalmente inefficaci. Che cosa si può fare allorché un numero rilevante di persone in balia di patologie psichiatri? Si abbandona a comportamenti e stili di vita paranoici, distruttivi, egoisti, violenti, anche di violenza psicologica, e la maggioranza non reagisce con la dovuta fermezza, come se non si ritenesse degna di condurre una vita libera, di agire, regolarsi in maniera da aiutare i soggetti problematici, ma non assecondandosi, inchinandosi davanti a essi, bensì imponendo loro di sottoporsi a delle cure, o nel caso di aberrazioni volontarie, di desistere dal loro atteggiamento di parassitismo sociale. Sperare qualcosa dallo Stato? Bah, è vano. Rischia di rivelarsi un male ancora più grande che subire il silenzio. Pensiamo al caso di Bibbiano. E lì ci siamo resi conto che una rete perversa di amministratori, assistenti sociali, criminali, non aspetta altro che il pretesto per togliere i genitori, e non sempre i peggiori, la patria potestà, e sottrarre i loro figli per darli in affida ai propri amici, magari in nome di un'ideologia perversa e pervertitrice. Nel qual caso il male che quei disgraziatissimi bambini rischiano di subire è perfino maggiore di quello a cui sono quotidianamente esposti tra le mura di casa loro, in balia dei loro irresponsabili genitori. Ma insomma, a chi dobbiamo rivolgerci? A chi? Alla chiesa? Certo, un tempo il prete conosceva bene le famiglie della sua parrocchia e poteva esercitare una certa influenza, mettere una parola buona, anche se poi in pratica una volta lontani da occhi estranei i maritieri alcolizzati ricominciavano a maltrattare i loro familiari e così le madri isteriche o paranoiche. Ad ogni modo, io prete oggi ho altro a cui pensare, quelle sono inezie. E pensate ai migranti, e dobbiamo pensare a loro. E poi dobbiamo occuparci dei corsi di affettività dei chei, poverini. E dobbiamo incitare i parrocchiani a stare attenti a non essere omofobi. E quell'orribile cosa che sono le veglie di preghiera in occasione dei gay pride possono essere anch'essi omofobe. E poi devo sensibilizzare le anime alla cura dell'ambiente, ai problemi dell'ecologia, il vero dramma che è il sole che si sta spegnendo, come ci ha fatto sapere Bergoglio. Se avanza all'orro del tempo, questi preti devono occuparsi della pastorale di Papa Francesco, insegnare le preghiere alla Pasha Mama, devono predicare il dialogo con l'Islam, l'Ecumenismo, quei protestanti, tuonare e fulminare contro gli orribili peccati del sovranismo, il populismo e il razzismo, che sono la causa di ogni disgrazia. Sì, il sovranismo, il populismo, è causa di ogni ingiustizia sulla faccia della terra. Ma allora a chi dobbiamo rivolgerci? La scuola, la maestra, il professore? Da una volta sì, ma oggi il meno peggio che ci si può aspettare è che se questi notano qualcosa che non va nel comportamento dei ragazzini delle loro classi, si rivolgano a quegli assessori comunali, a quei tali assistenti sociali di cui ho parlato prima, per cui è sperabile che forse è meglio che non notino nulla, che non si mischino, che non si interessano, perché il loro zelo mal riposto rischia di trasformarsi in un'ulteriore fonte di sofferenza per quelle sfortunate famiglie che già stanno male. Una volta c'era il nonno, uno zio, anche un parente, si faceva carico di certe situazioni difficili e aveva la buona volontà per intervenire, per almeno offrire un po' di soddivo alla nipote in crisi o al genero, alla nuora, disperati, insomma per dare una mano nei frangenti più tormentosi. Oggi però ciascuno, ciascuno va da se stesso, ciascuno fa già fatica a pensare alla propria famiglia, nessuno sarebbe disposto a tollerare la minima intromissione, anche se dettata unicamente da un sincero interessamento. E allora, e allora cosa fare? Ci resta Dio, il solo che non ci abbandona, non ci delude, non ci tradisce. Attenzione, la forza della preghiera è immensa, immensa, l'aiuto della grazia è incommensurabile. Fortificati dalla preghiera, illuminati dalla grazia, quanti si rimettono a Dio domandano umilmente il suo soccorso e ricevono il sostegno, il consiglio, la prudenza e la sapienza necessarie. È il nostro profondo convincimento che la diffusione dei mali sociali dipende essenzialmente dal fatto che il mondo moderno si è ribellato a Dio. Questa è la causa prima della pazzia, che sembra sconvolgere la nostra vita, che ha introdotto nel corpo sociale elementi incontrollabili di disordine, confusione, conflitto e angoscia. Dobbiamo perciò condurre un'ampia, ampissima opera di bonifica. Ripensando tutto il nostro oggetto di vita è necessario fare una scelta chiara, scegli Dio o scegli il mondo. Chi sceglie il mondo non può poi lamentarsi se le forze scure travolgono la sua esistenza, i suoi sogni, i suoi affetti. Solo chi confida in Dio costruisce sulla roccia e le tempeste non la batteranno. Bene, cari amici e cari amici, pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al Deci Toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.